Vi confesso che rimango sconcertato anch'io quando penso alla Madonna, questo sogno incredibile sognato dal Signore. E poi vedo alla televisione le lacrime delle madri palestinesi, o scorgo sulle riviste missionarie i volti denutriti delle donne dell'Amazzonia, o apprendo da certi impietosi reportage le condizioni subumane delle ragazze del Bangladesh. Io mi chiedo se abbia qualcosa da spartire con queste infelici creature la storia di Maria. E quando sulla pubblica strada incrocio una di quelle, che la miseria più che lo smarrimento ha spinto a vendersi per sopravvivere, mi domando se Maria tirerebbe dritto anche lei, come faccio io nella mia intemerata prudenza. Mi risulta comunque molto difficile immaginare quali parole fermandosi uscirebbero dalla sua bocca. Così, pure ogni volta che ascolto la pena di tante donne violentate dei loro uomini, tenute sotto sequestro dei loro padri o confiscate nei diritti più elementari dalle prevaricazioni del maschio, faccio una gran fatica a supporre quale supporto ci possa essere tra Maria e queste creature, la cui mansuetudine sembra spesso dolcezza ma è rassegnazione. Si esprime come condiscendenza ma è avvilimento, mostra i lampi del sorriso ma nasconde la malinconia delle lacrime. Anche però, quando penso a certe donne apparentemente emancipate, mi ritorna con insistenza il problema del loro confronto con Maria. Chissà che la subrette delle varietà di provincia o la soprano della scala di Milano non invochino il suo nome prima di esibirsi sul palcoscenico. O la fotomodella del rotocalco per adulti e la campionessa di pattini a rotelle non ne avvertano il fascino sovrumano. O che la violinista della filarmonica di Filadelfia, e l'entronos di un locale notturno d'alta classe non ne percepiscano la dimensione spirituale? Che cosa pensano di lei le hostess dei Boeing intercontinentali? O le componenti del corpo di ballo del Bolshoi? A parte la catenina d'argento con una medaglietta di lei appesa al collo, quali reazioni suscita il nome di Maria nelle atlete della nazionale di pallacanestro in giro per il mondo? O nelle presentatrici della televisione o alle eleganti protagoniste dei salotti letterari? Maria, insomma, è buona solo come punto di riferimento per le monache di clasura e per le ragazze tutte case e chiesa? O è l'aspirazione estruggente di ogni donna che voglia vivere in pienezza la sua femminilità? Le donne della terra la guardano con tenerezza perché nella sua vita terrena ha riassunto i misteri dolorosi di tutte le loro soggezioni? O perché è il simbolo eloquente di chi sperimenta i misteri gaudiosi dell'esodo, dai laghi amari dell'antica condizione servile? O perché è l'immagine che sintetizza i misteri gloriosi della definitiva liberazione della donna da tutte le schiavitù che nel corso della storia ne hanno sfigurato la dignità? Sono domande, forse un po' dissennate, alle quali non so dare una risposta, ma per le quali so fare una preghiera. Santa Maria, donna vera, icona del mondo femminile omegliato in terra d'Egitto, sottomesso alle sevizie dei faraoni di ogni tempo, condannato a ruolo di abbrustorirsi la faccia dinanzi alle pentole di cipolla e a cuocere i mattoni per la città dei prepotenti, noi ti imploriamo per tutte le donne della terra. Da quando sul Calvario ti trafissero l'anima, non c'è pianto di madre che ti sia estraneo, non c'è solitudine di vedova che tu non abbia sperimentato, non c'è avvilimento di donna di cui non senta l'umiliazione. Se i soldati spogliarono Gesù delle sue vesti, il dolore spogliò te dei tuoi prestigiosi oggettivi e apparisti semplicemente donna, al punto che il tuo nigenito morente non seppe chiamarti con altro nome, donna, ecco tuo figlio. Tu che rimanesti in piedi sotto la croce, statua vivente della libertà, fa che tutte le donne, ispirandosi alla tua fierezza femminile sotto il diluvio delle sofferenze di ogni specie, al massimo pieghino il capo ma non curvino mai la schiena. Santa Maria, donna vera, icona del mondo femminile che ha intrapreso finalmente le strade dell'Esodo, fa che le donne in questa faticosa transumanza quasi da un'era antropologica all'altra non si disperdano come gli ebrei nel mare dei giunchi, ma sappiano individuare i sentieri giusti che le portino lontano dalle egemonie dei nuovi filistei. E perché la tua immagine di donna veramente riuscita possa risplendere per tutte, come la nube luminosa nel deserto, aiuta anche la tua chiesa a liberarti da quelle caparbie desinenzi al maschile con cui ha declinato talvolta perfino la tua figura. Santa Maria, donna vera, icona del mondo femminile, approdato finalmente nella terra promessa, aiutaci a leggere la storia e interpretare la vita dopo tanto maschilismo imperante, con le categorie tenere e forti della femminilità. In questo mondo così piatto, contrassegnato dall'intemperanza del raziocinio sulla intuizione, del calcolo sulla creatività, del potere sulla tenerezza, del vigore dei muscoli sulla morbida persuasione dello sguardo. Tu sei l'immagine non solo della donna nuova, ma della nuova umanità preservata dai miraggi delle false liberazioni. Aiutaci almeno a ringraziare Dio, che se per umanizzare la terra si serve dell'uomo senza molto riuscirci, per umanizzare l'uomo vuol servirsi della donna, nella certezza che stavolta non fallirà.